Ma quale via del grande? È qui, a via Spacca Le Coppe, che è iniziata la perdita. Guardate che roba, guardate che roba, qui dove fanno i campioni del mondo di motocross. Ecco qua, ha seguitato e poi naturalmente a via del grande ha svuotato la coppa e buonanotte ai sonatori. Vai!